Raga, loot lake Lo ha messo scritto Si metti l'armadietto di prima E' una figata, please, ok Fammi finire qua Qualcosa? No, sto parlando in live E va che cosa? Di mettere l'armadietto di prima Che era una figata, io vado a casa moderna Anzi, vado a casa centrale L'isolato centrale è tutto mio Guai a chi ci sale sopra, è zona privata Io No, no Vai Vai Andrà E se ci va il nostro amico Facciamo di mettere una jump Sono un gioccofiero, guardate Apro una cassa E trovi una pistola silenziata Me la dai a metto La misericordattica Ma guarda che oppi la silenziata Eh, oppi Anche la mitraglietta silenziata e op Io stavo contro un'omica A condotti confusi Stavo in galletta silenziata E mangodi Di vita col pompa a casa Qualcuno vuole l'isolotto Visto che hanno trovato un casco E' comprato una roccia Baggata nel Nilo Ma state voi alla casa futuristica Qual è la casa futuristica? No No, io sono la casa futuristica No, sapete perché Perché per 300 stalle rettici Tengo due barilotti leggendari Dalle 1 a me che me lo bevo È una scuola Vieni qua E faccio un buco un bravo Un bravo E raga chi ha 150 di mattona Io Ah guardalo l'RPG guardalo guardalo Cane Quanto costa? Ci faccio 300 Devi fare una scuola polvere dei teletubbies Prova e tutta sta Pietro Che mi da 100 A 200 Gianni O Prima della 150 Di pietra raga Eh sì Non deve avere 1050 1050 Botto Cos'è ha detto C'è Nace Il corso Andare tutta tua vita A me 118 di legno Ha chiesto Ma non è scoppio Nenazzo Alla scoppio Come vuole facere la pietra Scorpio Vieni qua Scorpio Ho 260 Ho 260 di pietra Ho Come ti ho fatto Prende la cosa Infra Insetta 284 Ma non è me 24 Non c'è Non aspera polvere Gli do io una pietra Capito Il potere E di qua Quanto vi prestano No raga No raga 5 di pietra Mi date 5 di pietra Vi prego No Cerca 40 Tenendo 40 Se ne ho Da me 40 Ok Dammela E ce l'ho Pura Ascolti Perché Sono 400 Oggi Non mi fido Da gli altri Gio Dai Ma Credo che Da mele 20 Dammi le 20 Almeno Quello che ha tolto Tutta la pietra Qua casa futuristica Proprio tardo Mi son fatto Gio E mi son fatto Tutta la legna Qua casa futuristica No mai Non io Ma non io Io sono Un po' questa La francese Non voglio capire Oh che caccia Mi vi presto Gesti È 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 Ho comprato L'RPG E Il Volt Action Per cosa Il Volt Action Accentro Di legna Mi dai colpi Mi dai Colpi No E non Me l'ha Fattuta A me Capì Dove La Fattere Le Ressi Che Vedermi Che A Fattere Colpi C'è Nelle Mosi Aspettate Aiuto Mi serve Pietra Non Dele Dari Bambino Fottitore Di Di Perché Non sto Giocando Con computer Sto Giocando Con Ma Stare Mas Guarda Player 356 Guarda Eh Sì Ma Perché Non Hanno Il Nome Ma Comincia Fanno Sistema Spesso Strana Abbi Quelli Senza Il Nome Allora O Non Nel Nome Ho Bagli Suo Perché Tra Me La Partita Nel Dice La Play Play Il Numero Ci So Plegano Numero Amici A Plegano Il Numero Ci Sono Altro Con Un Nome Nome Oppure Ragazzi Andate A Fare La Spesa Liter Ho Speso Tantissimo Tantissimo Secondo Siamo Siamo Poi Vediamo Kilo Ma Vedi che Un copione No Scusate Ma Avete Il Ciacchio Per Leni Scusate Un po Di Pietra Scorso Erika Vediamo Una Cista Leggendaria Epica Leggendaria Potete Per Le Sono Scato Nel Tutto Tipo Esce Tutto Leggendario Le Granate Puzzolenti Chi le Vuole Stanno Qui La Che Schifo Sto 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 De 400 Di Raga Prendiamo Tutela Piccola Tutti Tutti Quante Piccola Nate Ma Lava Bugga La Macchina Oh Cazzo Stai Fermo Stai Fermo Lonti Ma Certo Sfacendo 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 C4 Aspetta Aspetta Vieni Qua Vieni Qua Che Che Ha Preso Le Viene Quale Come Nel Fortino Ma Io Non C'erlo No Fa Fuga Amico No C'er Fuga Amico Secondo Me Ma Va Lanciate Sotto I piedi Non C'er Fuga Amico No Non C'er Fuga Amico Ti Belli Muovi Ti Cagale Ce ne abbiamo Venite qua Allora Sparate Chi è che ce l'ha Dimmi chi ce l'ha Di voi Io Vieni qua Vieni qua Vi ho cagato Il legno Entra dentro No Perché Mi da danno Non ti fa Danno Si mi fa Danno Già Già Un amico Sotto Il danno Dai Ti rialzo Ti do Guarda che ti do Guarda che ti do E' vero Ce ne ho due Bello fatto Dalla me Dalla me Per favore Ma dai Ma ora Ma ne ci serve A tutti Dui Stai Sta puzza Di merda Sono La tua celle Lavati Senti Senti quanto D'ora Senti Mamma mia L'ho sentito Sono andato A 60 Di vita Ma Profuma Perché Il dolce Sto la schiena Come il zaino Ah come Pittano Un dolce Quando faccio Così Quando faccio Così Dovete lanciare La puzza Andiamoci Perché scappate Ma perché Quanti colpi Lancia Raggi Avete Due Venite Qua sotto Vai Aspetta Arrivo Scorpio Se muoio Ocura Perché Di morire Tenga Colpi Signore Portami No Ridammeli Il ladro Il ladro Di colpi Ne erano 15 Ma no Erano Due Magari 15 Mi ritenevo Io Sto Ma io C'ho Zero Materiale Siamo Fuori Safe Che Bello C'è Noi Da dentro La safe Siamo andati Fuori Safe In poche Parole Dentro La safe Per modo Di dire E Come Se Viene Un Onda No Mola E Si Sbatte Per L'area Non Ti Trovi Più Sulla Tossa Spiaggia Non Ti Trovi In America A proposito Di Armi Io Non Ne Ho Io Un Assalto Allora Un Assalto Bianco Con 66 Colpi Io Colpi Di Stato Mi Dai Quelle Ti Do Questo Io Ho Un Ponte Anziata Ho Ance La Silenziana Al Salone Ho Un Pompa Un Volt Action La Silenziata Lancia Rade Lc Quattano Mammo Ok Grazie Dammi Ollanda Inizia La Senza Ma La Silenziata Mai Nella Mia Vita Ma Io La Mitraglietta Silenzata Tu E' La Luisa Silenzata Io Ci La Pistola Eh La Pistola Un Conto Io La Mitraglietta Silenziata Aspettato Fatto Scoffian Qua dentro ci sono shieldini per chi ha spazio Ho trovato uno scaracca All'assalto Ho portato Sì qua sotto c'è un assalto blu e due raga due poze da due poze grandi prendetele E mi dai colpi d'assalto Già ma vini non ne ho però c'è o l'assalto blu io la scar ti faccio carità Vini devi ringraziare Adesso tutti a fare la vittoria reale non penso perché io sono con mouse e tastiera Ma cazzo La gambiera dei colpi d'assalto E' difficile giocare su tastiera Sì è difficile sì Sta c'è Tu ho lasciato su da 50 Perché non l'hai preso Perché sono poco Ma io già me ne ero andato da 40 anni fa E' un altro posto Te lo dico non ho sforzo Vabbè ragazzi Allora Tutta sera non è difficile Da cambiare dei colpi d'assalto E' più facile Io giocando col padre Devo abituare Soldi Di carta Di abituare Già trovo meno difficoltà che ieri e l'altro ieri a giocare Guardate cosa ho trovato Ritolgo il cecchino della Ah no Il cecchino no C'ho i tasti un po' tornati perché ho le mani Raga la fonda Ma di cosa Sì sento sicuro Mi servo Che Che ne do Di ciò Sono il suo tizio Raga Ma se il nostro amico è disabile Che ci vuoi Che se ne cago 18 ma Se vinciamo la partita così Sì a parte i ragazzi gente Ok Non parlo Dov'è? Ti butto la granata appiccicosa Vai a fare alla guaduardo Mi vado a pushare Eh ma raga Non c'è materiali Sono morto Quasi un carico Raga raga prendete mi sa che sta altra gente raga c'è un'altra gente raga il pompa non è uno minchia io ne ho uno ma non lo chiedo da quattro regione sarà qua colpi di lancerati li avete due mini e venire una fortina d'armi l'ho beccato l'ho beccato di cerchino scoppiano scoppiano sotto sotto scoppiano di scoppio non lo sai parte non so qua vieni qua entrava dentro tini ragazzi penso io girati girati corpio un guarda a terra ma non è tutto scopo sta più l'asceso scopo di aminicolo audio scudi scoppio scoppio vieni qua scoppio da ministro di ammisco di medica da questi c'è questo scontro ammazza presso il 2.1 po per cosa bisogna io no 1 dall'inizio di game del game e pur io sono la prende ma non ha rubato sto coglione o se ci stanno con l'ho fatto me lo deve dare un po non c'è 600 vini mi mi servono di lancerà non lo so sì sì leggendario se lo vuoi te lo ma chi è il disabile da una stessa cosa raga è l'enemico io colpi ci avrò me l'ha vottuto sto quando raga avete così colpi di lanciarazzi mi servono colpi e controllare 2 la gara dove stanno a tv le aziende risanotte no questa nella casa non sarà a vedere sia quella sì ancora lì raga nella nostra montagnetta e soprattutto montagnati in safe è però stavano c'è raga io no raga gente c'è il materiale gente qua solo 100 è un cavaliere nero raga raga un cavaliere nero che non l'ho buscata mai quale negli osce sono potentissimi me l'ho fottuto il compagno che l'ho secchiato al cavaliere nero non entrate non entrate che c'è la trappola qualcuno no ovvieni qua vieni qua o i ball bandiamo scoppio al milico abbia una rbc c'è la trappola ma io non ho colpi non ho colpi sono sotto se volete c'è un munizioni piccole 200 no la vostra raga lasciatemi colpi lancerati colpi lancerati mi servono non ce li ho ragazzi penso tra gli altri inchiava ma è morto del nostro tanto ma dove è qua da fuori è uno cazzo non sono lancerati più buono arrivo c'è uggj g Non mi posso giocare con te, please, sì, mi cerchi, mi chiamo 12345 Omar, se raga inviatemela voi l'amicizia, Scorpion1000 Fatti il tuo nome rosso memoria, se l'ho inviata senza guardare il nome Aspetta un attimo che adesso fa il valla